Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. Gragnano. Green Pass rubati. Il nome della cartella sul PC di un 26enne, arrestato dai carabinieri. In casa certificazioni verdi, banconote e carte di identità false. I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del posto per spendita, fabbricazione e introduzione nello stato di banconote e documenti contraffatti. Nella sua abitazione hanno rinvenuto 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatte e 4.500 euro in contante di vario taglio la cui origine non è stata chiarita. E ancora 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote. Tra i file stipati nell'hard disk del PC, in una cartella rinominata Green Pass rubati, alcune matrici utilizzate per falsificare Green Pass. Molte certificazioni verdi erano pronte per essere stampate e riportavano già i dati anagrafici di altre persone, sicuramente inconsapevoli dell'utilizzo dei loro dati sensibili. Il giovane è ora ai domiciliari. In attesa di giudizio.